Anche se ancora purtroppo non sono riuscito a dare una organicità né tantomeno una costanza ben precisa a questa rubrica voglio però riproporvi anche oggi una nuova puntata per quanto riguarda le news della settimana giorno più giorno meno però prima di iniziare io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale fondamentale per aiutarmi a farlo crescere ancora di più attivate la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti poi se il video vi sarà piaciuto lasciate un like commentatelo con le vostre opinioni poi vi ricordo in descrizione trovate innanzitutto la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo un link Amazon da usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto ed infine tutti i miei altri riferimenti social nei quali potermi seguire quindi da Instagram, Facebook, Twitter così come anche il gruppo Telegram ma detto questo passiamo a quella che è appunto la nuova puntata delle Cine News, le news del doc mettiamola così una puntata ripeto che arriva forse qualche giorno dopo rispetto a quello che era il giorno che io avevo inizialmente preventivato per poter realizzare questa rubrica vi ho detto infatti nella prima puntata che il giorno ideale potrebbe essere il venerdì ma così non è stato fino ad ora, non so se riuscirà ad esserlo anche nei prossimi giorni però siccome sono delle notizie cinematografiche che sono arrivate nel corso degli ultimi 7-10 giorni anche se slittiamo di qualche giorno non succede nulla ed infatti è una rubrica che mi porterà a chiacchierare insieme a voi riguardo appunto le notizie più importanti o comunque quelle che mi sono sentito di selezionare proprio negli scorsi giorni in modo tale chiaramente da sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti e ovviamente se avete altre notizie magari nelle ultime ore è emerso qualcosa di nuovo dopo la registrazione di questo video chiaramente scrivetelo qui sotto nei commenti allora innanzitutto io vi voglio ricordare la presenza in sala di tre film usciti proprio nel corso degli scorsi giorni due di questi io già li ho visti anche se nel momento in cui sto registrando questo video e quasi sicuramente anche nel momento in cui lo starò pubblicando non li ho ancora recensiti e sono da una parte rapito del Maestro Bellocchio film davvero monumentale fiondatevi in sala per andarlo a vedere perché credo che rimarrete soddisfatti poi con il Maestro Bellocchio difficilmente si sbaglia e poi l'altro film invece è stata una clamorosa sorpresa di cui ho fatto cenno in uno short ne ho già parlato anche nella mia pagina Facebook ed è Renfield film con la presenza tra gli altri di Nicolas Cage nei panni di Dracula ora io non avrei dato un centesimo a questo film anzi io mi sarei aspettato di ritrovarmi di fronte all'ennesima tresciata all'ennesima monnezza di questo anno in realtà così non è stato mi sono divertito in maniera del tutto inaspettata quindi anche questo è un consiglio e poi nelle sale è presente anche un'altra pellicola che al momento purtroppo non sono ancora riuscito a vedere ed è Daliland con la presenza di Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalì un film biografico quindi chi mi segue da un po' di tempo lo sa io drizzo immediatamente le antenne con i film biografici però purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di guardarlo se lo avete già visto fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione un'altra notizia che è stata anche confermata nelle ultime ore e riguarda anche in questo caso tra l'altro un film biografico è relativa a quello che sarà il prossimo film di David O'Russell un regista che purtroppo negli ultimi tempi non è che abbia avuto la capacità di soddisfare appieno le aspettative generali anche con il suo ultimo film Amsterdam purtroppo è rimasto un pochino in quello che è il limbo tra l'insoddisfazione generale e la possibilità di aver realizzato un film dignitoso purtroppo in realtà così non è stato perché pur avendo un cast spettacolare al suo servizio il film non è che abbia soddisfatto appieno né critica né pubblico né il sottoscritto come ho detto anche nella mia video recensione di qualche mese fa ma è già al lavoro per quello che sarà il suo prossimo film biografico che sarà intitolato Mudden ed è un film biografico il biografico che sarà incentrato su quella che è la figura di John Mudden storico coach e anche commentatore del football americano tra l'altro interpretato in questo film da Will Ferrell staremo a vedere tra l'altro Will Ferrell in un ruolo verosimilmente non demenziale comico come purtroppo ci ha abituato nel corso della sua carriera e dico purtroppo perché perché Will Ferrell in realtà ha spesso dimostrato di essere un bravissimo attore un bravissimo artista anche al di fuori anche soprattutto mi verrebbe da dire al di fuori di quella che è la sfera della comicità demenziale quindi staremo a vedere in questo film che cosa sarà stato in grado di fare sia Will Ferrell sia chiaramente Davido Russell in queste ore tra l'altro sono stati distribuiti dei nuovi teaser trailer o dei trailer per quanto riguarda Barbie chiaramente il nuovo film di Greta Gerwig che arriverà qui in Italia a luglio se non ricordo male e io continuo ad avere la sensazione che questo film o sarà il film dell'anno o uno dei film dell'anno o sarà la trasciata, la trasciata del secolo una delle monnezze gigantesche più grandi con le quali io abbia mai avuto a che fare perché non riesco ancora a decifrarlo questo film non riesco a capire se sarà un film che si prenderà in giro prendere in giro se stesso non ne ho la più pallida idea sono molto curioso e non vedo l'ora appunto che arrivi nelle sale per potermi fiondare al cinema per andarlo a vedere un'altra notizia che è stata distribuita in questi giorni è stata diffusa in questi giorni riguarda Mark Hamill che chiaramente molti di voi potrebbero ricordare per il ruolo di Luke Skywalker in quella che è la saga di Star Wars e Mark Hamill è stato intervistato in queste ore e si è detto favorevole ad un recasting per quanto riguarda la possibilità di riportare sullo schermo il personaggio di Luke Skywalker o in progetti cinematografici o in progetti televisivi seriali ora fermo restando che avrebbe anche un senso come dire un recasting perché chiaramente Mark Hamill ormai ha una certa età quindi il personaggio di Luke Skywalker potrebbe essere utilizzato e potrebbe essere sfruttato anche magari in versione giovanile e lui non potrebbe farlo però io quello che penso sempre quando mi viene nuovamente riportata come dire davanti agli occhi una notizia riguardante Star Wars riguardante gli Skywalker e penso sempre basta basta con gli Skywalker vi prego non ne possiamo più quello che è stato fatto con quella che è l'ultima trilogia fondamentalmente di Star Wars dimostra quanto in realtà secondo me si debba davvero mettere una pietra tombale sulla saga non tanto di Star Wars ma su quella che è la storia degli Skywalker e andare oltre andare ad esplorare qualcos'altro però staremo a vedere chiaramente è ovvio che Skywalker ormai è una sorta di brand che riesce ad attirare l'attenzione del pubblico quindi difficilmente verrà messo da parte in maniera definitiva ma appunto staremo a vedere un altro film che tra l'altro è in fase di realizzazione e che tra l'altro vedrà come protagonista principale Timothée Chalamet un attore che a me non ha mai entusiasmato più di tanto però staremo a vedere è il prossimo film su Bob Dylan un film biografico appunto su Bob Dylan interpretato proprio da Timothée Chalamet e tra l'altro vedrà come diciamo parte del cast un grande attore invece secondo me cioè Benedict Cumberbatch ancora non si sa molto su quella che sarà la struttura di questo film non si sa molto in che modo andrà a raccontare la vita di Bob Dylan però ecco volevo in qualche modo aggiornarvi sul fatto che il cast verrà arricchito proprio da Benedict Cumberbatch grande attore per quanto riguarda le notizie dell'ultima settimana degli ultimi 10 giorni vi ricordo anche che da poco si è concluso il Festival di Cannes e proprio al Festival di Cannes sono stati presentati dei film che in qualche modo hanno attirato l'attenzione sia del pubblico di Cannes chiaramente anche qui in Italia tra gli altri ricordiamo Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti che è stato comunque stroncato bisogna dire soprattutto dai giurati dell'Academy Rapito di Marco Bellocchio che invece in qualche modo ha mosso degli entusiasmi secondo me giustificati dalla bellezza del film poi è stato presentato anche La Chimera di Alice Rockweiler che io spero di poter andare a vedere anche questo nel momento in cui verrà distribuito Asteroid City di Wes Anderson che invece ha fatto un po' storcere il naso perché a quanto pare Wes Anderson continua sul binario di film magari esteticamente perfetti ma che hanno poco da dire da un punto di vista narrativo secondo me un po' come era successo anche per The French Dispatch ma anche questo staremo a vedere nel momento in cui verrà distribuito in sala e poi chiaramente è stato anche il momento della presentazione in anteprima del nuovo film di Martin Scorsese ovviamente Killers of the Flower Moon che arriverà nelle nostre sale ad ottobre anche qui non vorrei sbagliare ma comunque in autunno e anche qui chiaramente si è creato un'atmosfera a dir poco come dire piena di entusiasmo per questa nuova opera del maestro Scorsese ed ovviamente la curiosità non fa che aumentare quindi dobbiamo aspettare qualche mese tra l'altro è notizia proprio di questi minuti nel momento in cui sto registrando questo video che a quanto pare Martin Scorsese non ha nessuna intenzione di smettere nel girare film meno male e vorrebbe realizzare un film su Gesù non sarebbe neanche il primo perché ricordiamolo una quarantina di anni fa Martin Scorsese ha realizzato quello che probabilmente è anche uno dei suoi migliori film per quanto sia difficile chiaramente scegliere nella filmografia di Scorsese il film migliore ma ha girato L'ultima tentazione di Cristo grandissimo film a quanto pare vorrebbe girarne un altro proprio sulla figura di Gesù staremo a vedere per quanto riguarda appunto gli ultimi giorni sono state anche distribuite delle notizie riguardanti un nuovo film che vedrà come protagonista Joaquin Phoenix un film diretto da Todd Ines tra l'altro il regista tra gli altri di film come Velvet Underground di qualche di una ventina di anni fa più o meno ma così come anche di Carol di invece 6-7 anni fa con Cate Blanchett e Runei Mara per quanto riguarda questo film da quanto si dice da quanto trapela dovrebbe essere un film su una storia gay con la presenza appunto di Joaquin Phoenix tra i protagonisti non si hanno ancora tante notizie a riguardo il film è in fase ancora di pre-produzione quindi staremo a vedere ci terremo aggiornati chiaramente nel corso delle prossime settimane nel corso dei prossimi mesi per quanto riguarda inoltre un altro film che già sta facendo parlare di sé anche perché è diretto e sarà diretto da un regista che non ha bisogno di nessuna presentazione e tra l'altro in molti chiaramente pronosticano che questo possa essere l'ultimo film di questo regista sto parlando di Quentin Tarantino quello che sarà appunto il suo prossimo film che ancora chiaramente è in fase di pre-produzione quindi anche qui non si sa bene quella che è la tempistica effettiva poi nella uscita definitiva di questo film ma cominciano a circolare alle prime notizie riguardanti anche la trama di cui si sa poco ma a quanto pare il protagonista sarà un critico cinematografico di una rivista porno ora già queste premesse a me fanno non soltanto utilizzare le antenne ma anche qualcos'altro perché con Quentin Tarantino ovviamente c'è da stare attenti c'è da chiaramente da aspettare in maniera quasi da invasati totali le sue pellicole soprattutto alla luce del fatto che quello che arriverà potrebbe potrebbe spero di no ma potrebbe essere la sua ultima opera cinematografica quindi staremmo a vedere un altro film che purtroppo invece era in fase di pre-produzione si stava anche attendendo di iniziare le riprese ma a quanto pare il tutto è stato stoppato è il film The Island che doveva vedere come protagonisti Joaquin Phoenix che quindi ritorna nuovamente alla ribalta è sua moglie Runeimara un film che è stato stoppato perché perché nelle ultime settimane ricorderete è stato anche portato avanti lo sciopero da parte degli sceneggiatori il tutto chiaramente poi a cascata si va a riflettere anche sulle altre maestranze su tutto quello che risulta essere coinvolto chiaramente nella realizzazione di un film e quindi il progetto è stato stoppato non si sa se in maniera definitiva ma comunque è stato stoppato a data ancora da definire in maniera indeterminata staremo staremo a vedere se la cosa dovesse nuovamente riprendere però chiaramente un dispiacere soprattutto per il fatto che è un film che avrebbe visto come protagonisti due attori che tra l'altro ritornerebbero in un unico film se non ricordo male a collaborare in uno stesso film dopo Maria Maddalena di qualche anno fa tra l'altro un film tutto sommato gradevole che vi consiglio un altro film che sta entrando in fase di realizzazione perché è stato annunciato dai suoi registi è il prossimo film di Ficarra e Picone che come sempre tra l'altro è sempre avvolto nel mistero perché sono sempre bravi nel mascherare tutto quello che viene realizzato sul set sono bravi nell'evitare che vengano diffuse notizie soprattutto riguardanti la trama quindi sono impegnati nella loro nuova opera che tra l'altro gireranno a Catania nella città nella quale ritornano dopo diverso tempo soprattutto dopo la matassa chiaramente anche qui Ficarra e Picone parlo probabilmente anche in maniera poco oggettiva sono palermitano come loro ma è un duo che aspetto sempre in sala perché nella stragrande maggioranza dei casi sono in grado di soddisfarmi quindi staremo a vedere anche qui che cosa saranno stati in grado di fare dopodiché vi voglio ricordare come ultima notizia esatto una notizia che mi ha in qualche modo anche qui fatto stare sull'attenti perché dopo la realizzazione di quella che è la versione horror di Winnie the Pooh che purtroppo io non ho ancora idea di come verrà distribuita qui in Italia non so se arriverà in sala probabilmente arriverà o attraverso lo streaming o attraverso l'home video è stato annunciato anche se qui siamo ancora nel campo delle ipotesi dobbiamo vedere se il tutto sarà confermato è stato annunciato una nuova versione horror splatter di un altro film chiaramente che ha come dire dei riferimenti diciamo dei riferimenti alla Disney ed è Cenerentola sarà realizzata una versione horror splatter di Cenerentola quindi non so che cosa aspettarmi dato che ormai la Disney con i suoi live action riesce nella stragrande maggioranza dei casi a farmi rimanere insoddisfatto anche se ancora io devo vedere la sirenetta di cui in tanti stanno parlando in termini positivi mi sta in qualche modo risalendo la curiosità però ecco se si dedica a questi progetti realizzando magari dei film che non hanno grandi pretese ma che riescono a divertire per me tanta roba quindi staremo a vedere se verrà confermata la Cenerentola in quella che sarà la versione horror splatter anche perché non ho idea di quello che potrebbe essere il modo di raccontare la favola di Cenerentola sotto un'ottica horror splatter quindi staremo a vedere nelle prossime settimane e quindi chiudo così questa nuova puntata dedicata alle news quindi le news del doc fatemi sapere chiaramente la vostra opinione su quelle che sono le news e le notizie che vi ho elencato fatemi sapere se ci sono altre notizie che magari hanno attirato la vostra attenzione scrivete tutto qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale fondamentale attivate la campanella altrettanto fondamentale lasciate un like se il video vi è piaciuto commentatelo condividete fate tutto quello che desiderate in descrizione c'è la mia wishlist amazon se volete farmi un regalo un link amazon che potete usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto e poi tutti i miei riferimenti social nei quali seguirmi facebook instagram twitter così come anche telegram noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornate ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti